Scoprire le bellezze naturalistiche non solo della Vallesina attraverso un mezzo a due ruote che fa bene all'ambiente e anche alla salute, la bicicletta. Questo è il messaggio che vuole lanciare l'associazione FIAB Vallesina, grazie anche ai tour organizzati per i soci e non solo come quello previsto per domenica 28 luglio. Si parte dalla frazione di osteria di Serra dei Conti, si fa un piccolo tratto su strada asfaltata e poi ci si addentra nel territorio arceviese, quindi nelle frazioni e nei borghi bellissimi di Castiglioni, Avacelli, Rocchetta dove ci saranno dei panorami mozzafiato. Concludo la mattinata un pranzo in un agritourist locale in modo da condividere anche le emozioni e le impressioni che i partecipanti avranno avuto all'evento. Per il futuro avete già in programma altre iniziative? Per il futuro ci rivedremo a settembre. Abbiamo già un programma, una passeggiata sempre in bicicletta con bambini a Montemarciano con le scuole perché comunque sia il messaggio della mobilità diversa deve partire un messaggio più che altro culturale che è importante che parta dall'età dei bambini, dall'età farli crescere con questa nuova idea di mobilità. Grazie